È lo sportivo, secondo me. L'ho sempre sentito tanto parlare in interviste, in podcast, in cose che facevo. Ed è quello che cerco di fare anch'io. Non voglio nuotare così tanto per... È il mio lavoro e io sono focalizzato 100% quando sono in acqua. E questa attitude mi piace molto e ho cercato di riportarla anche su di me. Il giorno, a dire la verità, che è morto ero in America. Quella mattina, mi ricordo ancora, eravamo a Las Vegas, sono andato in una libreria... Avevo trovato questo piccolo libricino molto carino di Kobe dove raccontava il suo primo anno da rookie in NBA. E l'avevo letto, tutto d'un fiato. Avevo finito queste 100 pagine su Kobe. Ho chiuso il libro, ho messo giù il libro, ho preso il cellulare, ho aperto e c'erano le notizie su Instagram e su Twitter dappertutto che fosse morto. Non lo conoscevo, però quando ti affezioni così tanto a una persona che ti ha dato così tanto, la senti veramente. Abbiamo bisogno, secondo me, di figure così che ci ispirano, che ci fanno tirare fuori la parte migliore.